ebbene sì torno a parlarvi di true wireless questa volta di hockey ultimamente ha lanciato un nuovo paio di cuffie sapete io ho già recensito il suo modello precedente e vi dico che in questo modello ci sono delle grosse novità oltre ad essere molto più piacevoli ma scopriamo il perché guardando un po cosa c'è dentro la confezione e subito dopo vi parlo della mia esperienza riguardo l'utilizzo di queste cuffiette ed eccola qui la confezione molto molto elegante e semplice allo stesso tempo abbiamo qui la scritta del modello e pt16s abbiamo qui le varie certificazioni e aprendo che cosa andiamo a trovare andiamo a trovare ovviamente le nostre cuffiette eccole qui vedete quanto sono piccole più che altro quanto è piccola la custodia molto tascabile ovviamente ricarica le vostre cuffiette ma ve ne parlerò dopo sempre dentro la confezione c'è il cavo di ricarica micro usb istruzioni disponibili in lingua italiana adattatori nel caso quali standard non dovessero essere di vostro gradimento la garanzia e il quick start per iniziare fin da subito nell'utilizzo per quanto riguarda la custodia beh devo dire che la custodia più compatta in assoluto che attualmente ho provato nei miei vari video oltre ad essere incredibilmente ergonomiche eccole qui sono due cuffiette molto semplici che una volta rimosse dalla propria custodia si collegano in automatico tramite il bluetooth 4.1 abbiamo qui ovviamente i contatti magnetici per ricaricare le nostre cuffiette abbiamo un contatto magnetico per la custodia superiore e devo dire che comunque anche se in plastica dà una sensazione di buona qualità e avete visto c'è anche il led di stato che vi indica lo stato di ricarica di queste cuffie quanto durano beh dipende ovviamente come le impostate io le utilizzo mezz'oretta al giorno andate in ritorno quindi un'ora al giorno e è passata una settimana ancora non ho ricaricato la custodia quindi giù di lì secondo me hanno una durata che va dalle 7 alle 9 ore dipende come impostate il volume come impostate il tutto c'è ovviamente un led di stato che vi indica se è avvenuta correttamente la connessione una volta che le mettete all'interno della custodia vedete si ricaricano e si spengono in automatico la cuffia master è la cuffia destra comunque c'è la possibilità di controllarle entrambi tramite il comando touch a tal proposito devo dire che i comandi touch sono molto semplici da utilizzare con un tocco potete fermare o avviare la musica con doppio tocco passata al brano successivo con triplo tocco potete avviare google assistant o alexa sul vostro smartphone tenendo premuto invece potete alzare e abbassare il volume come stanno nelle orecchie stanno veramente bene se vi confondete comunque c'è il simbolino come vi ho detto l e r le inserite all'interno delle orecchie e wow isolano piuttosto bene anzi vi consiglio di non tenere il volume troppo alto quando camminate in strada perché c'è il rischio che vi investano perché magari non sentite l'auto che arriva tenete il volume su 60 70 per cento per quale motivo vi dico questo perché il suono è veramente vivo in queste cuffie si tratta di cuffie sotto i 50 euro ma che offrono una qualità a mio parere piuttosto soddisfacente c'è un buon equilibrio nelle frequenze poi sapete con lo smartphone potete un po smanettarci potenziare i bassi medi alti come meglio credete però lasciando così i livelli standard mi trovo piuttosto bene anche i bassi non sono malaccio e nell'uso quotidiano queste cuffiette mi sono veramente piaciute quando vi arriva una chiamata potete ovviamente sempre tramite comando touch rifiutare o accettare e come si sente voi sentite veramente bene ovviamente chi vi chiama mentre chi vi ascolta magari essendo che sono piuttosto compatte e lontane dalla nostra bocca quando siete in città si sente un po il fruscio del vento questo genere di cose però l'audio si sente piuttosto bene per esempio se volete utilizzare solo l'auricolare destro per quando andate a guidare ci sta come audio è abbastanza soddisfacente quello che mi è veramente piaciuto di queste cuffie è che sono compatissime il fatto che riesco a tenere questa custodia interna della mia tasca a volte dimenticarmela perché appunto sono davvero compatte nel complesso devo dire che sono rimasto veramente contento di questo modello rispetto le precedenti che comunque erano molto buone anche loro passo in avanti è stato ridurre le dimensioni è stato tradurre i comandi touch e non più tasti fisici è stato fatto anche un passo enorme per quanto riguarda l'ergonomia ci sono alcune cuffie in ear che danno veramente fastidio adesso che sono più compatte vedete riescono a rientrare all'interno del padiglione auricolare e non danno fastidio in ogni caso se dovesse darvi fastidio vi hanno messo all'interno del kit delle cuffiette che potete sostituire e come vi ho detto io le ho utilizzate per tutta la settimana e attualmente i led indicano appunto ancora la metà della batteria poi dipende ovviamente il livello della musica che impostate questo genere di cose comunque secondo me un 7 8 rette le fanno senza problemi questa volta devo dire complimenti occhi hai fatto veramente un ottimo lavoro anche considerando il prezzo che parliamo di meno di 50 euro e questo genere di cuffie con questa qualità e questo prezzo è difficile secondo me trovarle come avete visto ho in prova altre cuffie anche interessanti e ben presto vi porterò alla recensione anche di quelle però vi dico che secondo me queste qui sono da considerare quindi se siete interessati all'acquisto link in descrizione come sempre mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale seguitemi su sconti go go per le offerte magari se esce in offerta ve lo segnalo lì seguitemi su instagram telegram e noi ci vediamo al prossimo video ciao